Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un incidente è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdichiana in direzione Roma. Per questo motivo si sono formati 6 km di coda in direzione Bologna tra Chiusi e Monte San Savino e 5 km di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana. Per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra il bivio per la 11 e Barberino e sulla direttissima rallentamenti tra Barberino e Aglio. Sulla A11 per incidente e rallentamenti in direzione Pisa tra Prato Est e Prato Ovest. Sulla A12 per lavori 3 km di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!